Si è svolto per la prima volta a Napoli il 37esimo congresso nazionale ANDAF nella suggestiva cornice del Castel dell'Ovo. Nella due giorni saranno passati al setaccio non soltanto le opportunità lavorative presenti sul territorio nazionale, ma ci si confronterà anche sui temi più importanti come il credito, il fisco e appunto il mercato del lavoro. Il 2013 è purtroppo ancora un anno difficile, il paese soffre a causa dell'instabilità politica e di ripetute manovre, incentrate soprattutto su inasprimenti fiscali. Gli investimenti e la domanda interna invece languono. Nonostante la complessità del momento storico italiano, il congresso ANDAF guarda al futuro, così come ha affermato ai nostri microfoni il presidente ANDAF nazionale Fausto Cosi. Pensiamo che si debba trovare una ipotesi alternativa al credito bancario. Le banche hanno una situazione di una certa problematicità in questa fase. stanno riducendo il credito alle piccole e medie, dobbiamo creare un canale alternativo con i mini bond che però debbono essere da un punto di vista legislativo meglio strutturati al fine di consentire una reale possibilità per le piccole e medie di accedere a questo strumento.